Si tenta di ricostruire le ultime ore di vita di Katia Dello Marino, la 41enne biturgenze trovata morta a martedì mattina sul greto del torrente Afra in località Montagna, alle porte di Sansepolcro. La donna sarebbe stata uccisa con due colpi alla testa, uno alla fronte e uno dietro all'orecchio, per poi essere spinta lungo la piccola scarpata. Il corpo è stato infatti ritrovato da alcuni passanti nella mattinata di martedì sotto il ponte del Diavolo, dove adesso è stato posto un piccolo mazzo di fiori per ricordare la giovane massacrata. Adesso i carabinieri stanno cercando di far luce sull'accaduto anche attraverso le parole degli amici e conoscenti della donna, ancora mistero fitto sull'arma dell'elitto, non ancora ritrovata, potrebbe trattarsi di un martello, di una piccola piccozza. Due sono i punti fermi delle ultime ore di vita di Katia Dello Marino, la giovane a mezzanotte di lunedì è stata fermata a Lama di San Giustino, ad un posto di blocco dei carabinieri della compagnia di città di Castello. E verso le 3.30 del mattino sarebbe stata chiamata dal fratello senza risposta. L'orario dell'omicidio potrebbe così collocarsi tra la mezzanotte e le 3.30 della notte, tra lunedì e martedì. La Citroen C1 rossa della 41enne è stata ritrovata a circa un paio di chilometri da dove è stato trovato il corpo e ad un chilometro dalla sua abitazione nel quartiere Riello. Alcune risposte potrà fornirle l'autopsia che sarà eseguita sabato, intanto è stata effettuata dal medico legale giovedì una prima verifica esterna del cadavere.